Ben ritrovati ancora gentili telespettatori di Teleantenna edizione del Veneto orientale del telegiornale. Subito parliamo di sanità dell'ASL che ha limitato i tagli ai distretti, cioè lo che è infatti da parte dei sindaci della Commissione, appunto dei sindaci del Veneto orientale. Sentiamo. Via libera della conferenza sindaci di sanità alla nuova proposta dell'ASL che limita i tagli ai distretti sanitari periferici di Eraclea, San Stino e San Michele. I giorni di apertura passano da 2 a 3 alla settimana, prima dei tagli decisi a luglio erano 5. Conservando a questo è l'aspetto più importante, un giorno d'apertura esclusivamente dedicato all'anagrafe sanitarie, destinando gli altri due per i servizi di CUP, refertazione e prelievi. Si è così trovato un punto di incontro tra le esigenze di economia dell'ASL, gravata dalla spesa di mantenere in piedi tre ospedali pubblici per un territorio di solo di 200.000 abitanti, e le esigenze della popolazione anziana periferica, altrimenti costretta a lunghi viaggi verso le sedi centrali distruttuali di San Dona, Jesolo e Porto Gruaro, per i servizi di anagrafe sanitaria. Confermata l'apertura pomeridiana di uno giorno alla settimana dei distretti sanitari centrali per svolgere servizi di anagrafe di tutti i cittadini del territorio, il nuovo regime distrettuale andrà in vigore tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Sul fronte dell'ospedale unico, la conferenza dei sindaci è stata costretta a rinviare il relativo punto dell'ordine del giorno, non essendo ancora stata pubblicata la delibera dell'aggiunta regionale, che ha deciso di dire no all'ospedale unico, conservando l'attuale schema di rete ospedaliera, con più nosocomi. Andiamo invece a Porto Gruaro, dove ormai Graziano Padovese, che fa parte ormai, quanto pare, della minoranza, chiede al sindaco il programma proprio della coalizione di maggioranza. Siamo con Graziano Padovese della città dell'Emene, dalla maggioranza lei mi sembra siete passati all'opposizione, siccome noi riteniamo che bisogna fare informazione ai cittadini, la non informazione è più negativa che non informare magari a modo suo, giustamente come tutti ritengono di informare, Beh, senda Graziano, come sta andando, vista dal suo punto di vista, evidentemente, la situazione amministrativa del comune di Porto Gruaro? Allora, una piccola premessa, noi non siamo mai andati all'opposizione, ma ci hanno eventualmente messo all'opposizione perché l'uscita del nostro assessore ha fatto sì che la maggioranza se lo tenesse in seno, scaricando, se vogliamo usare questo termine un po' forte, però chiaro per far capire ai cittadini, ci hanno messo in margine all'opposizione. L'opposizione noi, col prossimo consiglio comunale, la chiederemo in faccia alla attuale maggioranza, in particolare al sindaco, cosa intende fare nei nostri confronti. Se sì, ci dà la figura dell'assessore in giunta, se no, è chiaro che ce lo dice in faccia e che ci manda l'opposizione. Detto questo, passiamo alla sua domanda. Noi siamo curiosi, come tanti, come tutti i cittadini, all'indomani della vittoria del 14 giugno, non si è ancora visto un programma sintesi che mette insieme le quattro coalizioni più i tre apparentamenti esterni. Noi non c'è ancora questo programma che stabilisce qual è il percorso che ci mette insieme e quali sono le priorità. È chiaro che all'inizio sembrava che appena ha messo piede da fonti dell'amministrazione, il sindaco e a ciò ha raggiunto, ci fosse, fra virgolette, un disastro. Pare invece che dagli ultimi, dagli U2, primo e secondo e ultimi consigli comunali. Questo disastro a tutt'oggi non si vede, anzi, sembra che gran parte del programma della precedente amministrazione sia condiviso dall'attuale amministrazione, venendo meno, peraltro, alle assicurazioni dati cittadini perché hanno preso i voti con un programma completamente diverso. Quindi io sinceramente non so che dire, sinceramente io credo che ci sia un po' di smanimento, di essere un po' disorientati perché si pensava una cosa e non si capisce come si sta navigando. Qui l'attuale maggioranza di cui anche noi facciamo parte e tuttora facciamo parte, salvo che al prossimo consiglio comunale ce lo devono dire, non c'è un programma condiviso, non c'è una sintesi di programma e di conseguenza si naviga visto, o peggio ancora si naviga quel vecchio programma dell'amministrazione di centro-sinistra. La crona che ci porta a Oderzo, i ladri di slot si sono fatti vivi ma sono stati messi in fuga dal titolare di un bar. Ride notturno al bar Il Drago e la Tigre di Piavonna di Oderzo. Nella notte fra mercoledì e giovedì i noti hanno scassinato una delle porte laterali per introdursi all'interno del pubblico esercizio puntando alle sei slot machine situate sul retro. Ma hanno fatto male i conti, l'allarme è scattato ed il titolare è arrivato in velocità. Non li ho presi sul fatto ma li ho fatti scappare ed ho salvato cinque delle sei slot, dice il titolare. I ladri infatti hanno fatto in tempo ad impadronirsi di una delle sei slot machines e dei soldi riposti nel registratore di cassa. Poi hanno dovuto darsela a gambe, allarmati dal rumore dell'auto che parcheggiava davanti al bar. Avevo paura ma non avevo intenzione di subire un furto, così sono entrato con fidel gestore. I furti in zona si stanno susseguendo con un ritmo incalzante. Martedì notte i ladri hanno preso di mira il quartier Marconi introducendosi nell'abitazione della famiglia Parpinella. Ieri notte appunto al bar di Piavon, il Drago e la Tigre, è un bar gestito da una famiglia cinese arrivata a Piavon cinque anni fa. È il classico ritrovo di paese, essendo situato sulla strada provinciale che attraversa la frazione, via Maggiore, arteria che conduce alla casella autostradale, ed anche punto di sosta per coloro che sono in strada e si fermano giusto per un caffè o una giocata alle slot. Queste ultime erano sei, situate in una saletta posta sul retro del bar, non visibili a chi entra. Dunque, con tutta la probabilità, i ladri avevano studiato il colpo, sperando in un ghiotto bottino. Nel cuore della notte erano circa le due dieci, hanno praticato un foro sul vetro di una delle porte laterali, l'hanno poi aperta introducendosi e puntando subotteo alla prima slot machine. Non avevano fatto i conti con il barista, che abita a Busco, frazione di Ponte di Piave, che dista qualche chilometro da Piavon. Destato dall'allarme, il giovane si è precipitato sul posto. I ladri, certo, hanno sentito che stava giungendo, perché se la sono data a gambe, riuscendo a prendere solo una slot e il poco denaro che si trovava nel registratore di cassa, circa un centinaio di euro. Ancora da quantificare, invece, il denaro presente nella slot. Il bar ieri mattina era regolarmente aperto, solo il foro sul vetro della porta laterale raccontava quello che era successo. Parlando ancora di Porto Gruaro, Rambuschi si dice favorevole alla nuova viabilità nel centro storico della cittadina dell'Emene. Pietro Lambruschi, presidente del gruppo per il cambiamento. Lei ha un ruolo molto importante dal punto di vista politico a Porto Gruaro. Oggi si vedono nella stampa, nei giornali, per le televisioni, che si parla della nuova viabilità di Porto Gruaro, un argomento dibattuto ormai da anni e lei è stato, se non il primo, sicuramente uno degli artefici ormai da molti anni che parla della viabilità di Porto Gruaro. Ecco, in merito alle scelte annunciate dal nuovo sindaco, qual è la sua posizione? Beh, io, quello che ho sentito da parte del nuovo sindaco non posso essere che favorevole, favorevole perché ormai da circa, direi, 12-13 anni che sono attivo affinché questa viabilità, quella attuale, venga modificata. Anche perché il deflusso di tutte le auto erano obbligatoriamente attraverso via Spalti, che sappiamo che è la via più stretta e quindi tortuosa che in Porto Gruaro, qualcosa di assurdo. Quindi questa nuova apertura del sindaco Maria Teresa Senatore mi fa particolarmente felice che porti avanti quelle idee che, ripeto, da oltre un decennio io cerco con il precedente sindaco di modificare. Oggi finalmente verrà modificato, questo mi sembra che verrà modificato nel mese di ottobre. Il mese di ottobre siamo tutti noi, diciamo sia del centro storico che della via Spalti, stiamo in attesa, felicemente in attesa, di quello che avverrà. A Motta di Livenza invece un test sul Livenza che viene così monitorato via Satellite. Monitorare via Satellite il fiume con dati in tempo reale sul proprio smartphone. Novità importanti a Motta nel campo del rischio delle alluvioni. Iniziato ieri, il test conclusivo di uno progetto finalizzato a tenere sotto costante controllo il rischio alluvionale chiamato sistema FlowDays. Si tratta di un progetto che produrrà dati della situazione idrologica del fiume Livenza attraverso il monitoraggio satellitare, per poi trasmettere le informazioni ai centri di gestione delle emergenze. Il progetto deriva dal lavoro biennale di un consorzio tecnico a livello europeo, coordinato dall'Istituto Superiore Boella di Torino. Coinvolto anche l'Ufficio regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura di Venezia, il finanziamento è stato garantito dal programma Quadro per la ricerca della Commissione europea. L'obiettivo è semplice e vitale. Riguarda infatti la diminuzione dei tempi di intervento dei vigili del fuoco, protezione civile ed altri durante le alluvioni e inondazioni. L'esercitazione è stata organizzata dall'Ufficio regionale UNESCO con il coinvolgimento dei comuni di Meduna e Motta e dei relativi volontari. Spiegano i curatori. Tecnicamente viene impiegato il sistema satellitare europeo Copernicus, il sistema di navigazione satellitare Galileo ed il sistema europeo per l'allertamento e inondazioni. E continuano. Il progetto testato sul fiume Livenza è stato presentato ieri pomeriggio al Cason degli Alpini, sede dell'ANA di Motta. Il sistema permetterà di trasmettere la situazione del territorio a centri di gestione delle emergenze, alla protezione civile e alle unità di primo intervento, ai volontari e alla popolazione locale. Ieri è stato simulato virtualmente il livello delle acque del fiume registrato durante l'inondazione del 2010 con uno scenario di rottura degli argini elaborato dall'autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico. Il termine della dimostrazione sul campo è previsto per oggi e vedrà la partecipazione dei sindaci di Motta, Paolo Speranzon e Meduna di Livenza, Marica Fantuzza, della protezione civile regionale del Veneto, i volontari ANA, assieme al gruppo comunale di volontari di Meduna e l'autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico. E ora parliamo di Eleonora Gasparotto, portugruarese doc, che ha vissuto, nonostante i suoi poco più di vent'anni di età, tra Friuli Venezia Giulia, portugruaro appunto, e il centro Italia, ma che da portugruarese ha cavalcato il festival di Venezia con successo. Sentiamo allora Eleonora. Tu arrivi da Portugruaro, ma in realtà quindi distante una settantina di chilometri da Venezia. Venezia, quando si parla della mostra del cinema, è lontana a migliaia di chilometri da Portugruaro, è una realtà completamente diversa. Hai raccontato Marghera, che cosa racconteresti di Portugruaro? Questa è una domanda abbastanza difficile, perché devo dire, io Portugruaro, sì è vero, ci sono nata e ci sono anche vissuta parecchi anni, però diciamo che dall'adolescenza in poi sono sempre stata fuori, prima in Friuli per la scuola delle superiori e poi adesso appunto in Abruzzo. Quindi sono un po' fuori dalla realtà di Portugruaro, se devo essere sincera. Sì, è un po' forse una vergogna il fatto che magari non conosco così bene la mia città e magari situazioni importanti da poter raccontare. Che cosa hai visto in questi tuoi sprazzi di vita vissuti a Portugruaro negli anni? Secondo te che cosa è cambiato? E che cosa porteresti in un possibile film o cortometraggio, insomma, o documentario di questa città dell'Ebene? Penso, ecco, una cosa che ho visto sempre la mancanza, se devo essere sincera, è il cinema a Portugruaro. Perché sì, avevamo dei cinema ma sono stati chiusi, non abbiamo un movieplex e siamo una grande città, quindi un multisala non è che ci starebbe male. Ho visto che hanno fatto magari qualche attività, qualche volta, però sono sempre attività che sono andate perse, di cui non ci si ricorda mai, non c'è un appuntamento forte. Quindi a me piacerebbe che a Portugruaro ci fosse più attenzione sotto questo punto di vista. Le altre arti so che per la musica si fa abbastanza qua a Portugruaro. Il cinema non lo dico solo perché, insomma, ci lavoro e mi piace, è una grande passione, ma perché, come si diceva anche in questi giorni a Lido, nei dibattiti che si fanno ogni anno, il cinema è importante anche per un fatto culturale, nel senso che al di là dell'intrattenimento alle persone puoi passare qualche informazione, puoi insegnare qualcosa. E quindi sarebbe bello, insomma, poter fare anche un festival o dare la possibilità di un cinema alle persone per portare dai ragazzini fino agli adulti, senza che uno prenda la macchina e debba andare fino a Pordenone o per magari il Cinema Zero, se uno vuole il Dessè, oppure, insomma, a Fiume per i film più commerciali. Quindi forse, non so, farei un documentario su questo, magari su il perché non c'è questa attenzione da parte, insomma, del Comune di Portugruaro a sviluppare un'attività cinematografica, ecco. Hai parlato di ragazzini, che cosa ti senti di dire agli adolescenti di oggi, a quei ragazzi che magari hanno il piacere, hanno comunque qualcosa che gli potrebbe piacere nel mondo del cinema, per avvicinarsi? Che cosa ti senti di dire? Io, un po' la mia generazione, siamo cresciuti soprattutto su internet e con la televisione, e questo può essere, diciamo, un bene, ma anche un male per certi aspetti. Ai ragazzini io potrei dire sì, andate al cinema, il problema è che però dovrebbe essere anche la scuola a incoraggiare i ragazzi ad andare al cinema, a vedere le cose. Non dico che uno debba vedere i capolavori del cinema, queste cose qua, perché, insomma, ci sono diverse tappe che uno deve fare. Però ci sono tanti film che regalano forti emozioni, anche del passato, e non serve andare col bianco e nero, insomma, anche recenti. E, ecco, sarebbe bello anche poter insegnare un'ora di cinema nelle scuole, per avvicinare, appunto, i ragazzi a questa arte, ma anche a questo fattore culturale, perché ho frequentato, quando stavo in Friuli, diversi festival, come il Faris o il Trieste Science Fiction, e sono comunque festival che portano le cinematografie di altri paesi, e da lì puoi veramente capire la cultura di un altro paese, la storia, e questo è importante perché non hai solo la visione, e quindi che ti può dare un libro, diciamo, durante il percorso scolastico, che può essere storia, ma anche altre materie. E quindi potrebbe essere veramente interessante anche per i ragazzi avere degli stimoli sotto questo punto di vista. Vedere un film e poi magari può crescere in loro la curiosità di andare a approfondire quell'aspetto storico, culturale di un paese. Per concludere, Eleonora, cosa ti piace del cinema e qual è il tuo genere? Allora, come genere non ce ne ho uno preferito, però se devo dire il periodo di generi che ho preferito è sicuramente quello italiano degli anni 70, dove i film erano commerciali, però c'era anche sperimentazione da parte dei registi, perché lì veramente hanno provato, anche i produttori hanno rischiato, hanno investito, e c'era distribuzione, c'era visibilità per questi film, cosa che oggi invece per il cinema di genere italiano manca completamente qui in Italia. Magari all'estero riescono a trovare chi vende i loro film, insomma i festival, vincono anche importanti premi, però in Italia questo aspetto manca. Per me il cinema è un mezzo di comunicazione, non solo di intrattenimento, di cultura. Vorrei raccontare storie nella mia vita proprio per dare qualcosa agli altri, appunto che sia il documentario o la fiction, alla fine il documentario è un genere all'interno del cinema, forse meno commerciale perché le persone preferiscono vedere un film di finzione perché regala anche dei sentimenti maggiori, c'è anche una specie di drammaturgia all'interno del racconto che col documentario è più difficile sollevare. E quindi quando ero un po' più giovane e mi sono chiesto cosa voglio fare nella mia vita, ho detto raccontare storie, perché puoi dare qualcosa agli altri, insomma puoi avere un tuo ruolo all'interno della società. Ci sono stati dei casi in cui il cinema o il giornalismo hanno anche cambiato delle cose, hanno cambiato delle leggi, il modo di pensare delle persone, e io penso che questo potere, il cinema, così come il giornalismo ancora ce l'ha, è difficile al giorno d'oggi perché è difficile, però penso che questo potere lo abbiano ancora sia i giornalisti che i registi, insomma gli autori cinematografici. A Taglio Veneto Aldo Curtarelli invece ha visitato la mostra fotografica del Paglio dei Mussi, ha intervistato così la stessa organizzatrice. Siamo con Marine Andrea della Proloquo di Teglio Veneto, qui nella manifestazione della Sagra dei Mussi c'è una mostra sulle fotografie vecchie di Teglio Veneto, voi siete i protagonisti di questa mostra, ci puoi illustrare perché avete fatto questa mostra? Abbiamo fatto questa mostra con l'intenzione di mostrare ai tagliesi, anche ai non tagliesi, lo stato di fatto di Teglio Veneto adesso e nell'epoche passate, utilizzando fotografie di persone appunto di abitanti di Teglio, sono datate tra i primi novecento e gli anni settanta. E quanto questa mostra verrà esposta qui, ma avete intenzione di esporla in altre occasioni? Abbiamo intenzione di esporla domenica, nella giornata principale del Palio, esponendo in giro per il paese, esponendo le foto affinché la gente possa vedere la differenza tra l'attelio di adesso e l'attelio storica. Però rimani qui o pensate di fare altre manifestazioni con questa mostra? Per il momento l'abbiamo pensato per il Palio ad hoc, per il Palio. Se ci saranno altre occasioni qualcuno avrà intenzione anche di chiederci, siamo ben disposti anche a prestarle oppure fare altre manifestazioni sempre seguendo questa linea. Vinicio Scortagagno ci propone un nuovo scatto dal territorio per Fotoreport. Con Vinicio Scortagagno ci fermiamo qui allora con l'informazione di Teleantenna. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di weekend, grazie per averci scelti e naturalmente risentirci. Alla prossima edizione. Grazie per aver guardato il video.